La sua espulsione è appena stata ufficializzata. La cosa ha colto tutti di sorpresa perché nessuno si aspettava che accadesse così. Ciò sta generando molte polemiche e facendo arrabbiare i fan per questa decisione. Questo sta avendo un grande impatto sul calcio italiano. Questa è una notizia che nessuno si aspettava fosse a questi livelli. Giornalisti, giocatori e tifosi ancora non lo capiscono e le opinioni sono divise. Rimani fino alla fine di questo video per non perdere nessun dettaglio su questa espulsione inaspettata. Ma prima metti mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità della squadra nerazzurra. Passiamo ora all'argomento che ha generato non poche polemiche nel calcio italiano. La Juventus, una delle più grandi rivali dell'Inter, è in subbuglio dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. L'annuncio ha colto tutti di sorpresa, soprattutto dopo la vittoria della Coppa Italia. La giustificazione, però, è stata secca. Comportamento inappropriato da parte dell'allenatore durante e dopo la finale. Quello che è successo? Dopo la vittoria contro l'Atalanta, Allegri ha inscenato uno spettacolo di lamentele, con linguaggio inappropriato e gesti rispettosi nei confronti dell'arbitro e del rivale. Questo atteggiamento, ritenuto inaccettabile dalla Juventus, culminò con l'esonero, ponendo fine ad un ciclo durato nove anni, con due periodi distinti. La partenza di Allegri apre un nuovo capitolo nella storia della vecchia signora e genera speculazioni sul futuro della squadra. Per i tifosi dell'Inter la domanda resta. Cosa significa questo cambiamento per il futuro del derby della Madonnina? La rivalità tra Inter e Juventus è storica e feroce. E la partenza di Allegri potrebbe avere un impatto diretto sul classico. Durante la sua permanenza alla Juventus, Allegri è diventato uno dei grandi del calcio italiano, vincendo titoli importanti e guidando la squadra nei momenti cruciali. La sua partenza, quindi, mette in discussione gli equilibri della Serie A e aumenta l'incertezza sul futuro della Juventus. La partenza di Allegri potrebbe rappresentare un'occasione d'oro per l'Inter, che sta cercando di superare la Juventus nella lotta per il titolo italiano e consolidarsi come forza dominante nel calcio italiano. La partenza di Allegri, però, non significa necessariamente che l'Inter avrà vita facile. La Juventus, con una tradizione vincente e una rosa di alta qualità, continuerà a essere un avversario forte, indipendentemente da quale allenatore prenderà la guida. La ricerca del nuovo allenatore in casa Juventus è già iniziata e le aspettative sono alte per la scelta di un professionista in grado di mantenere il livello della squadra e rilanciare i tifosi. La situazione, però, è complessa e la Juventus dovrà reinventarsi per superare questo momento di crisi. L'Inter, dal canto suo, dovrà mantenere concentrazione e determinazione per continuare a crescere e cercare nuovi titoli. La partenza di Allegri potrebbe rappresentare una svolta nella storia della Serie A e l'Inter è pronta a cogliere questa occasione. Secondo te la partenza di Allegri è una buona notizia per l'Inter? La Juventus sarà ancora più forte con un nuovo allenatore? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità dei Nerazzurri. Forza Inter sempre!